Ciao a tutti ragazzi e benvenuti! Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di aprile 2021. Questo mese avremo quattro giochi, due titoli Xbox One e due di Xbox 360, tutti compatibili con le attuali console Xbox, ma iniziamo subito! Dal primo aprile arriverà Vikings Wolves of Midgard, disponibile fino al 30, gioco di ruolo d'azione sviluppato da Games Farm ambientato in un mondo fantastico ispirato alla mitologia norrena. Il gameplay è molto simile alla serie Diablo, i giocatori possono creare il proprio personaggio personalizzandone il sesso e i vari attributi. Oltre alla trama principale, il gioco offre tantissime missioni secondarie, con un open world che ci permetterà di esplorare valli innevate, città vichinghe, caverne di ghiaccio, tombe antiche e tanti altri luoghi, giocabile sia in single player che in multiplayer locale e online, fino ad un massimo di 2 giocatori, motivo per cui probabilmente lo proveremo sul nostro canale. Secondo titolo disponibile sempre dal primo aprile, però solo fino al 15, è Dark Void. Eviluppato da Air Light Games e pubblicato da Capcom, in Dark Void dovremo affrontare degli alieni, che minacciano l'umanità che un tempo le aveva abbanditi dal pianeta. Il gameplay mescola bene sia il combattimento via terra che quello aereo. Terzo gioco, disponibile dal 16 aprile al 15 maggio, è Track Racing Championship, gioco ufficiale dei Track Racing, simulazione fedele e realistica, in stile Formula 1 e VRC. Consigliatissimo per tutti gli amanti degli sport a motore, sono presenti ben 20 squadre e tantissimi piloti con cui competere. Infine, dal 16 al 30 aprile, abbiamo Hard Corps Up Racing, sparatutto a scorrimento sviluppato da Arc System Work e pubblicato da Konami, come parte della serie Contra. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di aprile 2021? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un like, a condividere e ovviamente ad iscrivervi al canale. Alla prossima! Ciao!